La Lega resta sempre la Lega, anzi a livello nazionale siamo rafforzati da un Matteo Salvini che sta facendo un buon lavoro e noi cercheremo di replicarlo anche a Vicenza. La Lega non si fa scalfire. Dopo che il Tribunale del Riesame ha accolto il ricorso della Procura sul sequestro dei fondi del Carroccio, Salvini era stato chiaro Andiamo avanti, il popolo è con noi. Il progetto insomma non si ferma in Italia, in Veneto, a Vicenza. Continueremo a sostenere Francesco Rucco nel suo ruolo di sindaco come componente di maggioranza all'interno del Consiglio Comunale e continuiamo a fare il nostro lavoro giorno per giorno. Insomma, a Vicenza la Lega continua a essere il primo partito del centrodestra e le vicende giudiziarie non avranno conseguenze sulla compagine che sostiene il nuovo sindaco Francesco Rucco. Manteniamo le promesse fatte in campagna elettorale, i nostri palazzi sono palazzi aperti, ascoltiamo i cittadini, lo sta facendo anche il sindaco che sta girando per tutta la città, quindi i nostri impegni restano tali e siamo a disposizione dei vicentini.